La Luva-Roma continua a disputare una stagione di alto spessore. I ragazzi di Monaco si levano infatti lo sfizio di battere la capolista Roma nel derby del Francesca Gianni, approfittando oltretutto dello stop dell'Ascoli per accapararsi il momentaneo secondo posto nel girone. L'avvioso ride però ai giallorossi. Al decimo cappa in trenare finisce a terra nel contrasto con Faenza. L'intervento dell'ex Aprilia sembrerebbe sul pallone, ma il secondo assistente segnala al direttore di gara l'irregolarità e costringe il signor Vitaglia ad indicare il dischetto. Dagli undici metri va allora Montella che non sbaglia e sigla il vantaggio per la Roma. Il gol accende la gara, la lupa ci prova al quarto d'ora ma l'uscita conclude sul fondo mentre dalla parte opposta Spirito sfiora solamente il palo. La lupa però sembra più brillante tra il ventesimo e il ventiquattresimo sfiora due volte il pari con Romagnoli che prima non è perfetto sulla conclusione di Pirazzi, poi però sceglie bene il tempo in uscita su Bencivenga. Al ventiseiesimo squillano nuovamente i padroni di casa ma Manganalo trova solo all'esterno della rete sul cross dalla testa di Pirazzi. L'azione successiva rischia però di costare il raddoppio della Roma ma Cianfiglia prima sbaglia nel rinvio, poi è superlativo nel rimediare al suo stesso errore e chiudere in uscita su Montella. La ripresa inizia subito nel segno della lupa. Al quarto infatti Romagnoli ascevolo sul cross dalla destra. Lì in area è ben appostato Sempini che si gira e con la porta vuota mette dentro il gol del meritato 1-1. Il pari accende ulteriormente la gara e al quattordicesimo Pirazzi assiorare il 2-1 sulla traversione di Manganaro, mentre sul ribaltamento di campo è Cianfiglia a dover uscire su K ben imbeccato da Squersanti. Sull'asse Squersanti K la Roma si va a vedere anche al diciannovesimo ma la lupa punge a sua volta un minuto più tardi con la girata di Semprini che chiama la risposta Romagnoli. Al ventidesimo potrebbe invece colpire Faenza da calcio piazzato ma è la centrale di Monaco grazie a Romagnoli dove essersi fatto trovare pronta da arpionare la sfera all'altezza del secondo palo. La palla inattiva ma su rimessa laterale anche i perfetti ci mette la testa al ventisettesimo non andando di molto lontano dal bersaglio. Il finale è rovente, ci prova prima la Roma ma K calcia su Cianfiglia e il possibile match ball. L'errore costa caro perché al quarantesimo Semprini sfida in campo aperto spirito e il numero 3 di Rubinacci si vede costretto a metterlo giù una volta arrivati in era di rigore. Pochi dubbi questa volta sul penalty assegnato dal direttore di gara e trasformato dallo stesso Semprini che sigla la sua doppietta personale ma soprattutto è definitivo 2-1. Finisce così con la lupa Roma che festeggia un'altra importante vittoria e un secondo posto che varrebbe il primato considerato che la capolista Roma è da considerarsi fuori classifica.